Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. In direzione Firenze e rallentamenti tra Firenze-Scandici e Scandici in direzione Livorno. Per la viabilità cittadina Firenze e per i cantieri della Trambia oggi è in programma la riapertura della corsia di piazza-stazione lato edifici in asse con via Valfonda. Infine per gli aerei i voli da Firenze a Perici-Chal de Gaulle e i rispettivi ritorni sono stati cancellati. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!